John Borno ragazzi, John Borno, John Borno e benvenuti in questo nuovo video e oggi c'è roba di cui parlare due partite molto, 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 molto importanti. L'Atalanta a Salerno, il Napoli ad Udine. In realtà, stranamente, che fa strano da dire, visto che il Napoli è campione d'Italia, il Napoli non è che sia poi così importante come partita, anche se poi pure loro, la loro lotta road to Europa, se che poi sia conference, eccetera, se la giocano. Per quanto invece riguarda l'Atalanta, io sono sconfortato. Ma ci arriviamo, ci arriviamo. Prima di iniziare vi lascio qui sotto in descrizione il link per andare sul pagina Instagram di Sportium Lab che vi darà la possibilità di provare a vincere dei biglietti per andare allo stadio e vedere, biglietti VIP per andare a vedere Milan, Inter, Juve, Roma, Lazio, Napoli, ma anche partite, insomma, del campionato spagnolo. Qualcuno ha vinto i biglietti per andare a vedere Real Madrid e Cadice che va al suo titolo a Real Madrid. Biglietto più volo, tutto pagato, insomma, è una bella cosa, ragazzi. Non posso che consigliarvi di farci un pensierino. A tutti gli altri consiglio questo, guardate. Non so se si vede. È un bel dito, una candela con un bel dito medio, ecco, consiglio questa roba qua. Detto questo, arriviamo a noi. Allora, allora, sono un po' sconfortato. Dopo aver visto le due partite di oggi, specie quella di prima, sono un po' sconfortato. Non ve lo nego, io credo che... Allora, non eravamo obbligati a sognare... Cioè, a sognare sì, però non eravamo obbligati a prendere la Champions, specie per come ci ha lasciato José Mourinho. Non ci ha lasciato in un momento semplice, non ci ha mai lasciato in un momento di tranquillità. Anzi, quando è arrivato De Rossi per Mourinho, io chiaramente ho pensato, vabbè, questa stagione è andata a donne di facili costumi, dalla prossima programmiamo per crescere. E invece questa roba qua non è arrivata. La stagione della Roma da quando è arrivato De Rossi è svoltata, da così a colà. È completamente svoltata. Quindi, ad oggi, la cosa che mi viene da dire è... Rosico, perché penso che l'Atalanta sia molto vicina a prendere la Champions League. L'Atalanta ci raggiunge. Ci supera per un discorso di gol fatti, gol subiti. Settimana prossima c'è lo scontro diretto a Bergamo, che se vinci, non dico che sei qualificato, ma te prendi un buon pezzo, perché poi ti basta vincere le ultime due per essere in Champions League. Cosa non scontata, ma comunque a fronti Empoli e Genoa si può fare, sono toste, ma si può fare. Se pareggi, sei praticamente fuori, perché l'Atalanta poi c'ha tre partite e tu due, e tu devi fare più punti dell'Atalanta, perché pareggiare con l'Atalanta la settimana prossima, dopo che l'Atalanta hai pareggiato, significherebbe guardare la differenza di reti. Loro sono avanti, se non vado in raro, di parecchio anche, credo. Però adesso non ce l'ho davanti la classifica. E quindi è praticamente impossibile che tu, con due partite, faccia più punti di loro con tre. Per questo mi viene da credere che non ce la faremo, che comunque sia molto tosta. E mi rammarico, perché poi oggi l'Atalanta giovanissimo era anche andata sotto con il gol della Salernitana, che sanciva il vantaggio della compagine campana. Io so che, cioè non avevo alcun dubbio, zero proprio, sul fatto che la Salernitana facesse zero punti, sono già retrocessi. Poi non sono riusciti a strappare punti in tutta la stagione quando serviva. Quando c'era il bisogno di, figurati se ce la fanno adesso. Ma nulla contro, però è chiaro che, cioè uno si fa due conti e dice, bah, dubito fortemente che di fatto riescano a fermare l'Atalanta. Quando vanno avanti, uno un po' ci crede, no? Perché tu dici, vabbè, ok, è vero, ma, parlamose chiaro, la Salernitana non c'ha niente da rischiare, non c'ha niente da piangere, non c'ha niente da giocarsi. E proprio questo non giocarsi nulla, ma proprio zero, ti porta a dire, ma non è che niente, niente, magari c'è la possibilità che li fermino giocando con nonchalance, giocando con tranquillità, e uno ci spera. Vanno avanti, dall'altra parte l'Atalanta ha qualche pallina per strada, qualche punticino se l'è perso, quando sembrava impossibile che li perdessi. Mi viene in mente, ad esempio, il... non lo so, c'ho dei risultati in mente, forse con il Cagliari, l'Atalanta ha perso, ha fatto delle sconfitte un po' particolari, e tu li hai ripresi. Oggi però è veramente tosta, l'Atalanta la ribalta in una decina di minuti, pareggia e poi segna il gol del 2-1, da lì in poi gestisce, è una partita equilibrata, ad onore del vero, gestisce, porta a casa i tre punti, ora sei sotto, sono incazzato, sono rammaricato, sono triste, diciamo che ci sta, perché comunque tu vieni da... la partita con la Juve, la partita contro il Napoli, la partita contro il Bologna, e l'unica cosa che mi fa realmente incazzare è la sconfitta contro il Bologna, perché io non dico che tu devi obbligatoriamente vincere, anche se se vuoi andare in Champions League devi vincere, cioè col Bologna a Roma devi vincere, e questa è una cosa che dal mio punto di vista ti pesa un po' poi, la qualificazione in Champions League, e vabbè, però quella è una sconfitta che non ci può stare, perché passi il pareggio contro... ecco io avrei firmato per vincere contro il Bologna, e a parte vabbè, grazie al cazzo erano due punti in più, perché abbiamo pareggiato contro il Juve e il Napoli, abbiamo perso contro il Bologna, però avrei firmato con il sangue per vincere contro il Bologna, perdere contro il Napoli e pareggiare con la Juve, ma banalmente avrei firmato anche per pareggiare con Bologna e Juve e perdere contro il Napoli, cioè il Napoli che faceva tre punti contro di noi, sti cavoli, cioè il Napoli è tanto lontano, credo che sia anche matematicamente fuori dalla Champions League, ma adesso non ce l'ho in mente, ora do una controllata, però non aveva senso, non me ne fregava proprio nulla, e non dava i punti soprattutto al Bologna, che è lì, che è vicino, però personalmente mi rammarica, e poi c'è il Napoli, il Napoli che gioca ad Udine, il Napoli che gioca contro una squadra, ecco c'ha più motivazione in Udinese, perché rischia tantissimo, tantissimo di retrocedere in Udinese, ma tantissimo, c'ha molte più motivazioni in Udinese rispetto che il Napoli, se non fa punti l'Udinese va giù e gioca una partita non gaiarda, ma vi posso dire una cosa, io credo che forse mettere la panchina in mano a Cannavaro sia un prezzo troppo alto da pagare, una cosa troppo pesante, cioè io sono il primo che dice, va bene ci sta, fa lo suo tentativo, comunque Cannavaro un'esperienza ce l'ha, e per me l'Udinese alla fine della fiera si salverà, però Cannavaro, cioè non è tipo, che so, cioè lui non ti può dire, vabbè che cazzo me ne frega, gioco a provare a vincere, gioco a giocarmela, oggi è vero che nel primo tempo l'unica occasione reale della partita è stata dell'Udinese, è quella di Samar, però è vero pure che, però è vero pure che fanno zero di rimporta il Napoli, zero di rimporta l'Udinese, però a fine partita stavo guardando il dato, quanto di possesso ha fatto il Napoli, 80, 70, 75, cioè ha fatto veramente, cioè l'Udinese era tutto lì rintanato, rinchiuso, non è manco, non è manco una cosa bellissima, se ti vuoi salvare, dal mio punto di vista non è manco una cosa bellissima, poi il Napoli va avanti, il gol lo trova con Victor Rosimane, che quest'anno ha giocato relativamente poco, ma quando c'è stato, regà, ha sempre, sempre fatto gol, veramente, e poco dopo fa il 2 a 0, che però gli viene annullato per fuori gioco, che avrebbe permesso di chiudere la partita, per il Napoli è troppo tardi, cioè per il Napoli è veramente troppo, troppo, troppo tardi, oggi stiamo parlando di un momento, in cui il Napoli ha perso una marea, di punti per strada, e anche vincere a Udine, non gli cambia niente, nel finale, l'Udinese, il gol, lo trova, e lo trova con Saces, che è successo, è successo che ha segnato Saces, e quest'anno al Napoli vanno tutte così, quest'anno al Napoli vanno tutte così, perché, perché è quello che è, sapete che c'è la legge del contrappasso, io penso, che se avessi detto due anni fa, un tifoso del Napoli, oh, fammi un gioco, tu, tu vinci lo Scudetto, però, l'anno dopo arrivi dodicesimo, ma anche per tre anni in realtà, arrivi decimo, cioè non ne vinci una, ti va tutto storto, avrebbe firmato, e questo è, raga, il Napoli ha vinto lo Scudetto, ha la pancia piena, ha cambiato quelli sbagliati, perché quello che non andava a cambiare le spalletti, verrà impossibile da trattenere, non ha sostituito quelli che andavano sostituiti, perché se tu cedi Kim, e puoi anche cederlo Kim, ma io non metto in dubbio che tu possa cedere Kim, però dal momento in cui tu cedi Kim, prendi Nathan, tu non puoi prendere Nathan, il Napoli è quello che è, l'Udinese ripeto, si getta in avanti, però per quanto riguarda la classifica, ma quanto mai ci potrà importare del Napoli, in questo momento, alla fine è un pareggio che non mi sento di dire che non serve a nessuno, perché al Napoli non serve, cioè è ottavo, l'ottavo posto che sono male la Conference League, è più uno dalla Fiorentina, quindi vabbè, si giocheranno la Conference League, l'Udinese è vero che resta in zona retrocessione, quindi qualcuno potrà dire, quanto io sarà mai servito, ma fa un punto a Napoli, per l'Udinese è oro, poi si giocherà la salvezza nelle ultime giornate, ma fare un punto a Napoli, ma quanto è importante per l'Udinese, poi questi sono i miei due centesimi, voi siete liberissimi di pensarla in modo diverso, io la penso così, Napoli quest'anno va così, ma ha sbagliato tutto in principio, ha sbagliato prendendo Rudy Garcia, poi ha sbagliato, sostituendolo presto, oggi il Napoli con Rudy Garcia sarebbe secondo me quarto, quinto, quinto sarebbe, o quinto o sesto a meno cinque, sarebbe lì a rompere i coglioni con Roma, Atalanta e Bologna, sarebbe il mappazzone, ha preso Mazzarri, non so perché ha preso Mazzarri, l'ha preso per fare il traghettatore, l'hai suonerato, come fai se non era il traghettatore, non lo so, ha preso Calzona, Calzona sarà a pensare l'europeo, c'è i cazzi di pensare il Napoli, tanto lo calciano a giugno, questo è raga, questo è, vediamo quello che succederà, fatemi sapere la vostra, un commento qua sotto, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio, tantissimi piace, buon c'è la lalla, ciao!